Troppe le zone d'ombra, tante le contraddizioni nel processo sull'omicidio dell'imprenditore catanzarese Domenico Bruno, scomparso il 27 febbraio 2004, il cui corpo venne ritrovato dopo circa un mese nelle spiagge di Ostia, quando il mare lo restituì ormai cadavere trafitto da 12 coltellate, un delitto per cui sono stati imputati la moglie della vittima Luciana Cristallo e il suo amante Fabrizio Rubini, accusati di omicidio volontario aggravato e di occultamento di cadavere. Due le assoluzioni sentenziate in primo e secondo grado, i giudici hanno graziato la donna che pur confessando l'omicidio ha invocato la legittima difesa, il marito avrebbe cercato di strangolarla e in passato l'avrebbe maltrattata, credendo anche alla versione dell'amante che sostenne di non aver preso parte al delitto ma solo all'accultamento del cadavere, avvolto in un tappeto e gettato nel tevere, un reato ormai prescritto. Una condanna definitiva quindi che non prevede ricorso in Cassazione. Il PG ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e l'avvocato di parte civile, Nunzio Raimondi, ospite nei nostri studi di LACI, curatore di uno dei figli minorenni, non può impugnare la sentenza. Ma rimangono una serie di interrogativi insoluti, uno fra tutti. Perché la moglie non denunciò quanto è accaduto nell'immediatezza dei fatti depistando le indagini? Grazie a tutti.